A volte mi viene da sorridere perché i produttori lanciano prima la versione Pro, poi la versione non Pro e a volte questa versione non Pro risulta per certi aspetti anche migliore della versione Pro ed è il caso di questo Realme 12 Plus 5G adesso vi faccio l'unboxing, vi racconto un po' le specifiche principali e vi racconto la mia esperienza come due amici al bar non entriamo troppo nel tecnico, usciranno un sacco di video su YouTube immagino quindi cerchiamo di parlare del concreto di questo smartphone cosa lo rende unico, cosa un po' meno qui abbiamo la solita dotazione di Realme ma non è scontata perché da quanto ho sentito nell'area Realme con buona probabilità tenderà a seguire i suoi competitor ovvero quello di ridurre un po' il contenuto della confezione è anche vero, per esempio qui abbiamo sempre il solito alimentatore da 67W con cavo di tipo C che ormai sto utilizzando forse da 3 anni dato che ho il Realme GT Neo 2 ed è sempre quello funziona senza alcun tipo di problema e devo dire forse anche l'alimentatore più equilibrato perché ci permette di caricare veramente in pochissimo, in meno di un'ora anzi è una delle grandi mancanze che ho sul mio Samsung Galaxy S24 Ultra che ok ha una grande batteria però quando lo utilizzi per fare le riprese e tutte queste cose la sera lo devo sempre ricaricare e ci mette un'ora e dieci minuti mentre se avesse avuto magari un alimentatore di questo tipo sarebbe stato il top vabbè Realme da questo punto di vista è avanti si si può parlare, guarda la batteria però si deteriora ma anche no nel senso io per esempio il GT Neo 2 si ho sentito magari una variazione di durata della batteria dopo circa un paio di annetti però è vero sempre che la batteria si ricarica molto molto velocemente quindi anche se lo devo ricaricare più volte al giorno comunque si ricarica velocemente vabbè aperta chiusa parentesi torniamo al telefono il design sempre il solito della serie 12 con questa finta pelle con questo orologio molto carino e attenzione allo schermo che è da 2000 nits AMOLED 120 Hz e non è più molto curvo infatti secondo me ci possiamo tranquillamente mettere una bella pellicola in vetro temperato e abbiamo il sensore di impronte sotto lo schermo a livello di design quasi più piacevole del 12 Pro perché abbiamo questa cornice tutta curva premium Realme è sempre brava con i design anche gli smartphone tipo il C53 che è il più economico ha un design da smartphone premium quello che mi piace di questo smartphone per farvi capire rispetto il 12 Pro che non mi ricordo ma penso non ce l'abbia qui abbiamo il jack delle cuffie di nuovo mentre nel 12 Pro se non vado errato no non mi ricordo perché mi è stato ritirato quindi non riesco a comparare però mi ricordo questo dettaglio mi vedrò di nuovo la recensione mentre per questa scatola abbiamo la cover in silicone trasparente e devo dire io sono un grande amante delle cover ma nei Realme mi dispiace sempre perché hanno questo design super premium che ti dispiace proprio a livello di tatto utilizzare una cover che tra l'altro dà anche quello spessore che si serve per proteggerlo ma un po' rovina il design a livello di funzioni hardware che cosa abbiamo in questo smartphone? ovviamente è inferiore al 12 Pro però ci sono delle chicche a livello software molto interessanti che hanno introdotto in questo modello probabilmente arriveranno con un aggiornamento finora anche nella versione Pro abbiamo tre telecamere da 50 megapixel 8 megapixel e 2 megapixel che comprende una grandangolare frontalmente 16 megapixel quindi sì inferiore rispetto al Realme 12 Pro ma vi anticipo già hanno migliorato la stabilizzazione per esempio io mi ricordo nel 12 Pro non avevamo la stabilizzazione nella fotocamera anteriore mentre qui sì abbiamo una stabilizzazione nella telecamera anteriore a meno che è arrivato un aggiornamento firmware che io non so e anche a livello di telecamere principali c'è una bella stabilizzazione io forse senza troppi se senza ma direi proprio di andare a vedere le fotografie andiamo a vedere le fotografie raga che ho scattato in questi giorni a livello di foto secondo me Realme è migliorato tantissimo sarà l'intelligenza artificiale sarà che ha realizzato insomma un buon software per esempio qui ho fatto una foto effetto bokeh di questo monopatico che non è semplice sì forse ho un po' sbagliato i bordi però rifacendo senza bokeh vedete come comunque la foto è venuta bella nitida bella luminosa abbiamo i fiori abbiamo il lago anche la foto della faccia mi si vedono un botto le rughe ecco Realme ha anche i filtri per le ragazze se vi interessa ci sono i filtri per fare la pelle liscia così non si vedono le rughe e diventate giovani a mia mamma piacerebbe uno smartphone del genere e adesso vi faccio vedere le due prospettive della fotocamera video vi faccio vedere come sono stabilizzati questa è una prova di stabilizzazione con la fotocamera anteriore c'è infatti l'opzione che si può attivare e sembra che non sia fatto male questa invece è la stabilizzazione della fotocamera principale vedete bella fluida proviamo a correre un pochettino e devo dire che è stato fatto un bel lavoro avete visto i video addirittura arriva 4k a 30 fps oppure 1080p 60 fps e devo dire sono stabilizzate hanno fatto un bel lavoro a livello di stabilizzazione che su questa fascia tendono a tralasciare invece finalmente si vedono dei bei video anche in questi smartphone vedendo altre foto ho notato come abbiano adottato un sistema a scatto rapido cioè se tu fai la foto anche se hai la mano un po' mossa l'immagine va a controllare la cronologia video tipo come se facesse un video di un secondo e in quel video di un secondo va a prenderti lo scatto dove magari hai meno mosso la mano vi faccio vedere anche grandangolare non grandangolare zoom 2x il sensore per 2 che è incluso ormai la maggior parte dei realme ma guardate le immagini come sono belle questo dipinto vicino al crystal palace anche lo sfondo ho fatto anche qualche foto scatto rapido proprio camminando senza star lì a fermo con la mano vedete come si è riuscito a estrapolare il frame meno sfocato di tutti quelli che ho fatto il cane questa casa cioè guardate come riesce a fare belle foto anche al buio per esempio sono andato a Sirmione in questi giorni guardate come è venuto bello questo castello bello e luminoso veramente belle immagini sulle foto con l'intelligenza artificiale realme sta facendo veramente tanto tanto lavoro volevo proprio farvi vedere quest'altra funzione ovvero che se voi tenete premuto guardate mi continuo a fare un sacco di foto per esempio qui ho fatto 20 foto e poi con calma mi vado a prendere la mia foto migliore il tutto tenendo semplicemente premuto poi vabbè realme spinge molto l'aspetto dei filtri ma chi se ne frega dei filtri ormai c'è instagram se me la voglio modificare la foto con i filtri lo modifico dopo però per quanto riguarda video e foto di base ha fatto un ottimo lavoro una novità fighissima sono le gesture ovvero la possibilità di prendere il vostro smartphone scrollare su tik tok senza toccare lo schermo è una stupidata assolutamente sì ma non troppo perché immaginatevi di avere il vostro smartphone state mangiando pollo fritto e avete le mani tutte unte volete vedere tik tok ma non volete sporcare lo schermo vi dovete ogni volta pulire? no cosa fate? attivate questa funzione delle gesture che praticamente sfrutta la telecamera fate così con la mano e facendo questo movimento o quest'altro scorrete verso su e scorrete verso giù all'estero ho visto in altri paesi addirittura c'è il puntatore quindi questo aspetto delle gesture diventerà qualcosa ancora di più concreto per adesso in Italia ho visto solamente con le mani ma in futuro si cercherà non che sempre con le mani è sempre con le mani anche qui però per adesso possiamo solo scrollare all'estero invece proprio puoi fare tutto c'è un puntatore puoi tornare indietro con le applicazioni senza toccare lo schermo e questo è utilissimo perché appunto stai mangiando o hai le mani sporche oppure al lavoro sai stai toccacciando robe la pittura non vuoi distruggere il tuo telefono con le gesture controlli lo smartphone rispondi al telefono e questa cosa verrà aggiornata nel tempo molto molto bene Realme altra cosa che mi piace del Realme ma questo c'era anche nei precedenti smartphone il sensore di impronte se lo tenete premuto ha questa funzione per avviare le applicazioni rapidamente per esempio volete attivare che ne so Instagram TikTok subito cioè senza andare a scrollare nel menu basta che tenete il sensore di impronte premuto e scrollate nelle applicazioni preferite che avete impostato questa è un'altra caratteristica molto bella che vi segnalo hanno inserito la barra laterale intelligente la barra laterale intelligente è un'altra funzione di Realme che ci permette di accedere a una specie di barra degli strumenti di Windows dove praticamente hai accesso alle applicazioni che scegli tu oppure quelle predefinite tipo per registrare lo schermo per fare uno screenshot per accedere alla gestione dei file un po' come se fosse un dispositivo desktop con la versione 12 Plus normale torniamo con i Mediatek il 7050 è un processore assolutamente modesto non un fulmine di guerra ma sicuramente utile per andare insomma a navigare senza troppi lag secondo me nella versione Pro effettivamente si sente una fluidità maggiore ma comunque anche con questo smartphone non ho percepito fastidio ecco con il normale utilizzo di TikTok Facebook eccetera eccetera ottima anche la batteria che non scalda più di tanto e i 5000 mAh vi permette di arrivare tranquillamente con un uso normale a fine sera patch di sicurezza marzo e abbiamo Android 14 Realme per i primi tre anni tende ad aggiornare i suoi smartphone e penso farà lo stesso anche con questo smartphone cerchiamo di andare sul concreto cerchiamo di definire bene le differenze rispetto al 12 Pro mi sarebbe piaciuto confrontarlo concretamente ma ahimè me l'hanno ritirato quindi non ho potuto farlo ma cercherò di andare a memoria effettivamente a livello hardware che cosa cambia? a livello di fotocamere il 12 Pro Plus è inferiore su questo non ci sono dubbi non abbiamo per esempio la 120x manca qualche sensore zoom che si c'è ma è solamente per due in questo modello è solamente 50 megapixel ma non lo considero troppo critico questo aspetto perché avete visto le foto effettivamente vengono bene paradossalmente secondo me vengono meglio anche i video sì nel 12 Pro abbiamo una risoluzione migliore per i pixel ma qui abbiamo una stabilizzazione migliore anche sulla telecamera frontale almeno io mi ricordo nella versione 12 Pro quando io ce l'avevo in prova non aveva la stabilizzazione anteriore ce l'aveva solo sulla fotocamera principale qui invece in entrambi i casi e devo dire vengono dei video ben stabilizzati che secondo me sono più importanti rispetto la qualità a livello di processore senza dubbio il 12 Pro era meglio su questo non posso dire nulla comunque è soddisfacente anche questo 7050 Mediatek si riesce tranquillamente a utilizzarlo con le solite app anche i giochi volendo ha queste chicche nuove a livello software ma penso a livello software riusciamo ad averle anche presto nella 12 Pro con un aggiornamento che cosa posso dirvi? posso dirvi che questa versione la potete considerare se siete interessati al jack delle cuffie se magari non vi piacciono gli schermi curvi a me gli schermi curvi piacciono un botto danno una sensazione di più premium però magari posso capire no guarda poi ora che io voglio mettere la pellicola in vetro preferisco uno schermo piatto come nella versione 12 Plus anche a livello di prezzo magari al lancio no ma sono sicuro nel tempo sì il prezzo ovviamente è inferiore rispetto al Pro quindi se vuoi risparmiare qualcosina senza troppi compromessi la versione 12 Plus è da considerare direi di concludere proprio con i prezzi questa versione viene venduta 12 GB di RAM più 512 GB di ROM espandibili a 419 euro mentre la versione 8 più 256 GB a 359 euro e attenzione qui eh perché sì è vero che si può virtualizzare la RAM ed espandere però io mi ricordo in determinati smartphone c'era una bella differenza tra la versione 8 GB di RAM e 12 GB di RAM la versione 12 GB di RAM andava molto meglio a livello di fluidità io adesso ho la versione 12 GB di RAM non so la versione 8 GB di RAM se effettivamente magari dà qualche lagucchio in più però avete a mente questa cosa ok ci sono circa 50 euro di differenza però quei 50 euro di differenza a volte ti fanno dire ok effettivamente ho uno smartphone più piacevole a livello di fluidità dove lo trovate? lo trovate già su Amazon vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione fatemi sapere cosa ne pensate un bel mi piace, un commento e un'iscrizione se volete rimanere aggiornati sulle prossime video recensioni noi ci vediamo alla prossima ciao! ciao!